André, o chiudi lì o ribalti la situazione. Bravo, ora su André, ora su, stai dentro, stai dentro André, metti peso, metti peso, stai dentro lì, bravo André, dai, 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 André, su, bravo, ora su, bravo, ora sfilalo André alla gamba, bravo, bravo, bravo André, stai giù, stai giù André, mantieni la posizione, mantieni la posizione André, non ti girare, andré, switch con le gambe, dai, stai, stai, fai il giochino di prima André, il giochino di prima, ok, ok, metti peso, apri le gambe, aprile, tieni quella posizione André, su, forza André, non è stabile quella posizione André, però, metti peso, su, si André, ora su, dai, visto che sei lì, andré, chiuso André, chiuso, 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 chiuso.